Io sono nel settore dell'energia da circa 1999 e dal 2006 nel rinnovabile. Durante questo periodo abbiamo visto una serie di evoluzioni, quindi ora siamo diciamo alla terza fase dell'energy transition. La prima fase è stata quella in cui sono state indivintuate le nuove tecnologie che ci avrebbero permesso di fare l'energy transition, vuole dire il fotovoltaico, l'eolico, le batterie, la biomassa, l'idroelettrico. La seconda fase, che è stata quella degli ultimi dieci anni, è stata la fase di quello che chiamiamo industrializzazione, vuole dire prendere queste tecnologie e creare delle economie di scala, economie di learning, per permettere che il costo per unità prodotta di energia da fonti rinnovabili diventi cost effective e che sia anche postoso quanto è quello del gas o del carbone o di altre fonti. Quindi siamo riusciti ad arrivare a questa parità tra le diverse fonti. Ora siamo nella terza fase e la terza fase è veramente quella in cui dobbiamo implementare da fare mass implementation, quindi costruire impianti sempre di più da poter riuscire a sostituire quello che erano fonti fossili con fonti non fossili, vale a dire rinnovabile. E noi lo facciamo tramite i nostri fondi, in questo momento abbiamo quattro fondi, fondo numero uno, due, tre, quattro, al momento il quarto fondo che stiamo attualmente raccogliendo e investendo, che ha già investito in circa 1000 megawatt di rinnovabile.